Casa del basket e palazzetto dello sport di Cantù. La Regione Lombardia si è riassunta all'adesione dell'accordo di programma che ha come finalità la costruzione della struttura polifunzionale. La realizzazione delle opere e degli interventi prevede una spesa stimata di oltre 50 milioni di euro. Regione Lombardia garantirà un contributo di 4 milioni, come ha spiegato l'assessore del Pirellone Massimo Sertori. Dal comune di Cantù ne arriveranno poco meno di 7. Il promotore privato ometterà quasi 39 milioni e mezzo complessivi. Quella di Cantù sarà una cittadella dello sport, con un'arena riservata alle gare di basket e non soltanto, da oltre 5 mila posti. Il tutto con la speranza che la squadra di pallacanestro possa tornare nel campionato più importante, la Serie A. Da due stagioni, e sarà così anche nel torneo 2023-2024 dopo aver fallito i recenti play-off, la formazione milita in A2. Un campionato certo non all'altezza della tradizione di un club che rimane tra i più vincenti d'Europa.